La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al riconoscimento per tutta la Sicilia delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. Un provvedimento che era stato richiesto dal Governo regionale lo scorso 17 giugno e per il quale adesso serve solamente la firma del decreto da parte del Ministro della Sovranità Agricola, Alimentare e Forestale. Il riconoscimento della condizione di forza maggiore e di circostanze eccezionali dal 1 luglio 2023 a maggio 2024 consentirà alle imprese agricole e zootecniche che operano su tutto il territorio siciliano di usufruire di deroghi in alcuni ambiti della politica agricola comune che permetterebbero di non applicare determinati vincoli a pascoli e terreni, continuare a godere di aiuti, rinviare pagamenti, sanzioni e oneri. Voglio ringraziare i ministri Lollo Brigida e Calderoli, sottolinea il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per la celerità nell'approvazione dell'Iter a causa della grave emergenza idrica che pone la Sicilia in zona rossa al pari di Marocco e Algeria. Il mio governo è impegnato su più fronti per contrastare la mancanza dell'acqua. L'intesa raggiunta ieri dimostra la concreta attenzione e sensibilità del governo nazionale per una situazione che va affrontata in maniera corale da tutte le istituzioni, comprese quelle europee. La Regione ha già dichiarato lo stato di calamità naturale per danni all'agricoltura e ottenuto dal Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale. La nuova richiesta nasce da una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane a causa della riduzione delle risorse idriche negli invasi e delle conseguente indisponibilità di acqua per l'irrigazione. Per il comparto agricolo e zootecnico si stima una perdita della produzione nel 2024 che va da un minimo del 50% a un massimo del 75%.